Mentre ci preparavamo per la Santa Messa, sottofondo, dietro la Sacrestia, Don Deccio ha acceso la televisione per ascoltare anche la parola del Santo Padre che stava rivolgendo ai giovani di tutto il mondo. Si parla di un milione e mezzo radunati per la giornata mondiale dei giovani a Lisbona. Il Santo Padre concludeva la sua ammelia proprio con le parole di Gesù Alzatevi e non temete. Alzatevi e non temete. E penso che queste parole di Gesù pronunciate a Pietro, a Giacomo, a Giovanni sul monte Tabor quando hanno assistito a un miracolo di trasfigurazione del nostro Signore, quando stavano così bene che non volevano più scendere giù, non volevano più andarsene, volevano costruire tre capanne. E' più o meno come noi. Stiamo qua radunati davanti al suo, all'altare, nel santuario della Divina Misericordia. Del santuario dove possiamo sperimentare l'amore misericordioso di Dio. Con carissimo Don abbiamo condiviso anche che in questi giorni, in questi mesi, quante persone si affollano, vengono, giungono a questo santuario per bussare al cuore di Dio, per chiedere il perdono, per toccare personalmente quanto è grande nel suo amore il nostro Signore. E quando il Padre parla dal cielo, dalla nube, come ci racconta Matteo, dice a chiare note che non basta compiacersi, non basta voler bene al nostro Signore, non basta voler bene a Gesù, non basta ascoltare la Sua parola. Ma ascoltandola, renderla viva. E questo vivere del Vangelo, questo comprendere del Vangelo, vuol dire la conversione. tornare a questa situazione del nostro battesimo, quando siamo stati battezzati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, quando ci è stata messa poi sul nostro corpicino la veste bianca, che era candida. Così eravamo anche candidi. E ogni volta che ci accostiamo a questo sacramento della misericordia, il cuore si converte, il cuore si compiace, il cuore ascolta. E poi ci vuole un passo in più, la seguela. Da questo santuario giungano al cuore i nostri le parole di Gesù, pronunciate anche oggi dal Santo Padre a Lisbona e ai giovani. Non temete. Gesù perdona tutto, perdona sempre. Basta che il nostro cuore sia affranto. Basta che il nostro cuore sia contrito, sia bisognoso della sua misericordia. Cristo è risorto, ha vinto la morte, ha vinto il peccato e chiede a noi di fare altrettanto, di cercare di vincere il male con il bene, di amare gli altri come Lui ha amato in noi, fino in fondo. Questo è il figlio mio, l'amato. Se il Padre ha posto il suo compiacimento in Lui, noi, pur ascoltando tante voci, strane, a volte contrarie, Preghiamo oggi in questa Santa Messa soprattutto di avere questa capacità e umiltà di ascoltare sempre e comunque il Gesù. Come disse Pietro, Signore, da chi andremo? Tu hai le parole di vita eterna. Amen.